Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. In cerca di un rifugio per ritrovare se stessa, Belen Rodriguez ha fatto un'inaspettata fuga da Milano, allontanandosi da tutto e tutti. Nonostante non si sappia quanto questa fuga durerà, sappiamo ora con chi è e dove si è rifugiata, salvo Rari Post, che ha utilizzato anche per ribadire che le sue scelte di vita sono personali e uniche, Belen ha scelto di mantenere un profilo molto basso dalla sua relazione ufficiale con Elio Lorenzoni in poi. La sua separazione da Stefano De Martino e l'addio a Mediaset sono state sicuramente due colpi duri, ed è per questo che ha deciso di allontanarsi, almeno temporaneamente. Ma dove si è diretta? Ora abbiamo una risposta a questa domanda grazie a un nostro inviato. Si è scoperto che Belen si è trasferita a Brescia con il suo nuovo fidanzato, ma vive da sola. I suoi figli sono rimasti a Milano, dove vivono con i nonni Rodriguez e i rispettivi padri. Inoltre, ogni domenica, da alcune settimane, i Rodriguez portano i bambini dalla madre e spesso vengono anche i fratelli di Belen, specialmente Cecilia e Ignazio. In altre parole, trascorrono le domeniche in famiglia, ma a casa di Elio. Le immagini più recenti di Belen la ritraggono durante la sua fuga romantica sulle Dolomiti con Elio Lorenzoni. Lorenzoni sembra essere diventato il suo rifugio felice, un ancora di salvezza per dimenticare le sofferenze del presente e guardare al futuro con ottimismo. Sembrerebbe evidente che da sola, Belen ha difficoltà a farcela.